Gli Stati Uniti ottengono l'appoggio dell'Arabia Saudita sullo storico accordo sul nucleare raggiunto dall'Iran e dal gruppo dei 5 più 1. L'occasione è stata la prima visita ufficiale del re Salman alla Casa Bianca. A maggio il sovrano saudita aveva disertato una riunione dei paesi del Golfo organizzata dal presidente statunitense Obama Camp David, sottolineando così la propria diffidenza nei confronti dei negoziati allora in corso con Teheran. Diffidenza che adesso sembra svenita, stando al ministro degli esteri saudita Adel Al-Jubeir. Il regno di Arabia Saudita è soddisfatto delle garanzie ricevute dopo aver trascorso gli ultimi due mesi a consultare gli alleati in Europa e altrove su questo accordo. Pensiamo che tale accordo contribuirà alla sicurezza e alla stabilità della regione impedendo all'Iran di sviluppare il nucleare. Mentre Obama e il re Salman erano a colloquio davanti alla Casa Bianca, alcune decine di manifestanti hanno contestato l'intervento di Riad nello Yemen contro i ribelli sciiti, denunciando l'uccisione di numerosi civili. Dallo scorso marzo il conflitto ha provocato la morte di oltre 4.400 persone. Dallo omune! Grazie per l'arlovo! Grazie a tutti.